Dal 10 al 12 giugno prossimi a Ragusa si svolgerà il Festival Ibleo della Tragedia Greca. Noi parliamo con Vicky Di Quattro, direttore artistico del Teatro Donna Fugata e una delle organizzatrici. Buongiorno intanto. Buongiorno. È una manifestazione alla quale teniamo mustissimo e della quale siamo anche molto orgogliose. Innanzitutto perché per questa manifestazione abbiamo stretto un legame con Siracusa e con l'INDA, con l'Istituto del Dramma Antico di Siracusa e questo non ci può che onorare sicuramente per la tradizione millenaria di teatro di Siracusa che si unisce con la nostra molto più giovane tradizione teatrale. L'idea nasce sempre da un ragionamento che avviene comunque di concerto insieme a mia sorella, insieme a Clorinda, con le quali ragioniamo sulle manifestazioni che si potrebbero fare, nasce sicuramente anche dalla passione di mia sorella per la cultura classica, per le tragedie, quindi questa idea di portare in qualche maniera le tragedie, anche se in una forma estremamente ridotta a Ragusa e nasce dall'idea anche di aprire le porte di alcuni luoghi della nostra città, luoghi che sono privati e che i proprietari hanno accettato di aprirsi al pubblico, quindi anche questa riteniamo sia una cosa che se da un lato chiaramente creerà delle scomodità tra virgolette perché sono luoghi comunque abbastanza piccoli, però dall'altro lato darà l'opportunità di scoprire dei gioiellini che sono nascosti dietro anche le facciate dei palazzi che siamo soliti vedere, dei quali però poi non conosciamo quali tesori nascondono al loro interno, sono dei giardini molto particolari, stile neoclassico, quindi sono anche due stili e due epoche totalmente diverse che si incontrano in una fusione di arte, in un momento ricreativo e culturale che speriamo essere gradito alla cittadinanza, anche perché è un progetto patrocinato dal Comune di Ragusa, per cui anche l'ingresso gratuito voluto fortemente da noi e reso possibile dal patrocino del Comune di Ragusa, anche questo ha i suoi lati positivi e negativi insieme perché se da un lato offre l'opportunità a tutti di partecipare, dall'altro lato chiaramente creerà magari un po' più di, da un punto di vista organizzativo temiamo una confusione maggiore, per questo abbiamo previsto anche la possibilità dello streaming sia presso il teatro che presso il salone del circolo di conversazione, quindi in maniera da poter comunque quantomeno raddoppiare i posti a sedere, quindi la possibilità rimanendo sempre comunque abbastanza ridotta, capiamo, rispetto all'interesse della manifestazione o quantomeno all'interesse che abbiamo già notato dalle telefonate, dalle mail che ci arrivano, diciamo che siamo felici di questo, dall'altro lato in un certo qual modo lo temiamo perché temiamo di non riuscire a far fronte alle richieste, però questo ci inorgoglisce, ci fa piacere perché soprattutto è l'indice di una sete anche di cose belle, di cultura che al Ragusano non manca e questa sarebbe una manifestazione rivolta al Ragusano, inteso nell'abitante della provincia di Ragusa, così come anche un servizio rivolto ai turisti che in questi giorni sono numerosissimi, fortunatamente, non so, camminando per Iblo, per Modica, l'altra sera sono stati a Scicli, è bellissimo vedere che le nostre città sono inondate da turisti e quindi dare un'offerta che permetta di vedere le nostre bellezze e insieme poter assaporare quello che è una tradizione millenaria della nostra terra di Sicilia, se non della nostra provincia, ma comunque sempre della nostra terra di Sicilia, trovo che sia un po' l'optimum. Quindi un assaggio di tragedie greche che sarà dato in queste tre serate, dal 10 al 12 giugno, proprio dagli artisti che in questi giorni stanno eseguendo? Sì, dagli attori protagonisti delle tragedie di Siracusa, saranno i protagonisti delle tre tragedie a venire, fare delle letture, chiaramente non sarà, questo ci teniamo a specificarlo, non sarà, la tragedia sarebbe, l'opera completa sarebbe impossibile anche, soprattutto per una questione di spazi, però sarà improntata sulla lettura dei brani più significativi delle tragedie e poi su una sorta di dibattito, di conversazione vera e propria con il presidente che è Giuseppe Piccioni, il presidente degli Amici dell'Inna che ha reso possibile tutto questo e poi di volta in volta ci saranno degli esponenti dell'Istituto del Dramma Antico, oltre che dei registi delle tre tragedie, per cui si potrà capire meglio anche in retroscena quali sono i meccanismi per mettere su un'opera così colossale quali sono appunto le tragedie. Racconteranno un po' anche il backstage di Giuseppe. Sì, perfetto, sì sì, è questa, vorremmo improntarla anche come una sorta di conversazione in un certo qual modo, quindi sono gradite le domande del pubblico, gli interventi, proprio per cogliere anche quegli aspetti che sono magari meno plateali, meno così immediatamente visibili, ma che rendono poi possibile e meravigliosa, o comunque un'opera sicuramente imponente, poi le rappresentazioni classiche. Con l'organizzazione è stato un po' un lavoro quindi di sinergia tra il teatro di Donna Fugata, ma anche queste associazioni, gli Amici dell'Inda? Sì sì, certo, perché l'idea nasce dal teatro Donna Fugata, ma è stata poi, è stata resa possibile da questa sinergia con innanzitutto il presidente Giuseppe Piccione degli Amici dell'Inda e quindi poi con il commissario straordinario dell'Inda, chiaramente è stata con Dicio Sinequanon la disponibilità estrema, devo dire, dell'Inda per rendere possibile tutto questo. Che immagino la macchina organizzativa sarà stata difficile, un periodo lungo? Beh sì, come in tutte le cose noi abbiamo tantissime idee, potremmo credo riempire anni e anni di programmazione, poi dall'idea alla realizzazione finale chiaramente il processo poi è molto lungo, la realizzazione finale comporta anche la disponibilità di tante parti e raccordare la disponibilità di tante parti, le condizioni a cui avviene questa disponibilità, quella poi è la parte operativa, comunque è la parte che precede immediatamente la parte poi operativa ed è la parte più complessa sicuramente, mentre l'ideazione è sempre la parte più fantasiosa, che ti diverte di più sicuramente, che ti fa litigare anche di più sicuramente perché abbiamo idee diverse, poi siamo due donne affiancate da una terza donna, due donne anche con un rapporto di, siamo sorelle, quindi un rapporto molto stretto che dall'altro lato però da un punto di vista lavorativo chiaramente ti porta ad avere degli scontri anche più plateali, più immediati, però le donne organizzano la manifestazione alla fine, si riescono in tante cose perché riusciamo a fare tante cose insieme, però siamo anche coadiuvati dagli uomini, dobbiamo dire la verità, che poi sono la parte anche un po' più razionale, più meno emotiva, per cui sicuramente in tutte le cose ci vuole un equilibrio. Bene, io ringrazio Costanza D4, continueremo a parlare della manifestazione, quindi del programma specifico delle singole serate con la sorella Costanza D4 che ci raggiungerà subito dopo la pubblicità. Vi lascio una pausa pubblicitaria.